Ciao a tutti archetti sono Orcuverde, come avete letto sicuramente dal titolo del video sono tornati i Lizard Squad, gruppo hacker che come ogni anno dopo il mese di settembre fino a dopo natale ha sempre creato problemi con i loro attacchi di DOS, i server di videogiochi, servizi e social network. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video, poi a lasciare un bel pollicione in su e seguirmi sui social, trovate tutti i link nella descrizione e iniziamo subito. Poco fa e dopo tanti mesi il gruppo hacker Lizard Squad sul proprio account twitter ha pubblicato due post. Prima questo post con scritto hashtag Lizard Squad, probabilmente per farci capire che sono tornati, purtroppo tornati in modo negativo, tornati per rompere i coglioni. E pochi minuti dopo quest'altro post con scritto nuova immagine profilo, impostando come immagine sempre la loro lucertola ma a tema natalizio. Questo probabilmente per farci capire che questi stronzi hanno in mente qualcosa da fare ora che ci stiamo avvicinando a Natale. Vedremo ragazzi se ci saranno altre notizie, novità e informazioni ve le porterò sempre sul canale. Quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video. Poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione e da Orko Verde tutto noi ci vediamo al prossimo video, bella!